Dopo la scorpacciata di gol a Ponte Valleceppi, le Foligno non si accontenta e batte di goleada anche la Ducato, lo scorso anno grande rivale dei Falchi per la vittoria nel girone B di promozione. La sfida del Blasone è finita 7-0, è stata in equilibrio fino al trentesimo, poi una volta trovato il gol dell'1-0 tutto è stato più semplice per i padroni di casa, che hanno avuto anche la fortuna dalla loro in occasione di più di una rete. Per la Ducato un buon inizio in cui si è dimostrata attenta e compatta, ma alla lunga gli spoletini hanno pagato la pressione che il Foligno ha portato in maniera quasi costante. Le riprese di Giorgio Pollici introducono al match. Foligno che prova a prendere il pallino del gioco sin dalle prime battute, ma la Ducato è ben organizzata con un quadrato 4-4-2 e non concede il fianco alla manovra di casa. La prima occasione importante del Foligno è al diciottesimo, azione che nasce da Gorini, con la Ducato che protesta per un fallo precedente di Pagliarini, che trova in area a vent'anni, il cui sinistro da posizione centrale è disinnescato da Carzetti, bravo anche in seconda battuta sul nuovo tentativo dell'ex Angelana. La risposta della Ducato al ventitresimo con un'iniziativa personale di Tomassoni, che dopo un paio di finte e controfinte conclude tra le braccia di Roani. La Ducato è ben chiusa, ma al trentesimo il Foligno riesce a passare da calcio piazzato, va a battere vent'anni dalla bandierina, la sfera sfila per tutta l'era piccola e Ginai sul secondo palo, stoppa e indirizzi, raso terra in diagonale verso la rete. Saltato il tappo, ecco al trentacinquesimo il raddoppio, anche un po' fortunoso, cross di vent'anni dalla destra, palla a rientrare se qui si fionda Francioni, contrastato da De Palma, che riesce ad evitare che l'attaccante la devi verso la porta, ma il movimento dei due permette alla palla di sfilare, cogliendo Carzetti fuori tempo, così il cross di vent'anni si tramuta nel 2-0. La reazione degli Spoletini al quarantaduesimo, gran punizione dai trentavetti di Barbetta con Roani, che si rifugia in angolo, sembra essere un fuoco di paglia, perché il finale di tempo è ancora di marca Folignate. Appena iniziato il recupero, vent'anni dai là in area Giabbecucci, per una bella progressione fino all'area piccola, stoppata però da Carzetti. L'azione prosegue, Pinti concede un calcio di punizione al Foligno per un fallo di mano dal lato corto dell'area di rigore. Alla battuta vent'anni che trova lo spazio per insaccare sul primo palo il gol del 3-0. La prima offensiva della ripresa è di marca ospite, al secondo Tomassoni va a traversione della sinistra, la traiettoria è maligna e Roani smanacciando, deve chiedere aiuto alla traversa per sventare il possibile 3-1. Foligno che rientra in campo un po' sornione, la sorte però dà ancora una mano al Foligno, poco dopo al settimo Pettinelli pennella un cross dalla destra, pallone deviato alla Pazzogna che diventa imprendibile per Carzetti e si infila per il 4-0. Per la Ducato è davvero una giornata no, sui palloni provenienti dagli esterni, al nono ecco anche il 5-0. Angolo di Gorini battuto basso, la difesa lascia sfilare e Carzetti viene sorpreso. Partita su chi cala al sipario, anche se il Foligno potrebbe arrotondare ancora al ventesimo, in contropiede vent'anni serve al centro Francioni, che indirizza di sinistro di poco fuori. Si va avanti senza grossi sussulti almeno fino al 31esimo, quando Pinsaglia scodella dalla destra un gran pallone, su cui Francioni in torsione di testa realizza il 6-0. C'è tempo anche per il 7-0 al 39esimo, cross di Peluso, zuccata di Francioni con Cassetti che respinge. Ginè prova il tapin ma trova ancora la risposta del portiere, quindi Francioni di testa mettendo il pallone che si era impennato. Insomma, altra goleada per il Foligno e domenica dopo la semifinale di Coppa di mercoledì con l'Orvietana. Grande sfida con il Lama, per la Ducato invece una giornata da lasciarsi alle spalle. Paradossalmente abbiamo preso il primo gol su azione e il sesto gol. Tra un calcio d'angolo, tra una punizione strana, tra un altro calcio d'angolo, tra una deviazione su mezzo cross, purtroppo è una giornataccia, assolutamente sì. Che è sempre importante il valore dell'avversario e questo non lo vorrei assolutamente sminuire. Secondo me abbiamo trovato una squadra che in questo momento potrebbe fare sette gol a tutti o nove gol. Sì, quando siamo riusciti a sbloccare il risultato e poi a raddoppiare è diventata più semplice, però non è stata una partita, ripeto la stessa parola che ho detto, semplice, perché comunque la Ducato è una squadra ben organizzata, all'inizio ci ha concesso pochissimo e troviamo delle difficoltà nel cercare le giocate anche tra le linee e negli spazi. Poi dopo, nel momento in cui abbiamo trovato il gol, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo raddoppiato e è diventato tutto molto più semplice.